Ciao ragazze, oggi video haul, vi voglio mostrare il primo regalo che ho ricevuto di Natale da parte della mia amica Mara e come sempre mi lascia senza parole vi faccio vedere pure il biglietto perché è troppo carino sono quei biglietti che suonano, che io adoro cioè quando l'ho visto sono impazzita aspettate che io con le unghie non riesco a fare più niente perché mi si sono allungate ed è questo qui prima ha questo albero di Natale in 3D pieno di micro glitter come vedete e quando insomma sono andata ad aprirlo copro il vedete che è carino e tiene anche la scritta Buon Natale è stupendo basta no è troppo carino, io l'adoro e poi mi ha messo il tutto dentro una pochette bellissima che vi voglio mostrare un secondo che voglio sistemare il biglietto che ci tengo io ho tutti i biglietti di compleanno o di qualche pensierino di Natale da parte delle mie amiche io me li tengo sempre conservati in un cassetto perché sono comunque dei ricordi che insomma mi piace tenere la pochette è questa cioè è stupenda io che adoro il maculato io sono rimasta tipo sbigottita quando l'ho vista sicuramente l'andrò ad utilizzare pure per qualche viaggio o anche nella borsetta se mi devo portare qualche trucco anche se sto fuori un po' di tempo è bellissima un po' bella tutta glitterosa stupenda ed è plastificata come potete vedere bellissima con le applicazioni insomma in pelle troppo troppo bellina e vi mostro vi mostro quello che mi ha mandato come sempre Mara mi manda sempre un sacco di cose e davvero Mara io non so come ringraziarti davvero come sempre ti ringrazio con la faccia per terra ci siamo scambiati insomma dei pensierini e Mara per Natale però lei esagera sempre e il pezzo forte è assolutamente lei cioè Mara è stata davvero gentilissima nella sua città ha trovato questa palette e mi ha preso questa qui con il viola e queste qui erano quelle palettine in edizione limitata della Catrice della linea Arts Collection ed è la palette il numero non vi saprei dire comunque era la più bella di tutte e si apre così con magnetica si tira insomma da questo piripicchio e questa è la palette all'interno tolgo la plastichina questa è la palette come potete vedere ha dei colori stupendi ha una cipria illuminante un blush dei ombretti un cacial nero che è super scrivente e duraturo perché già l'ho provato e questo pennellino che porta sia la spugnetta che in setole sintetiche penso per per il blush ma ovviamente sono quei caspitelli inutili che mettono nelle palette ecco a me cade sempre tutto oddio ecco qua forse più che per il blush è per sfumare l'ombretto questo è il pennellino della palette comunque è stupenda dentro porta questo scatolo cioè questo disegno da mascato bellissimo si chiude con la chiusura magnetica e dietro praticamente porta i vari look e questa qui praticamente contiene sei ombretti un blush uno cipro illuminante un cacial nero e un applicatore ed è bellissimo ma ha una scadenza di 12 mesi e questa qui purtroppo ragazza era un'edizione limitata non so se potete ancora trovarla poi sempre per quanto riguarda le palettine mi ha preso anche questa palettina qui che è a lei di questa marca che non so pronunciare l'aveva acquistata anche lei tempo fa e mi era piaciuta tantissimo perché ha dei colori stupendi vi faccio vedere subito a sia colori pastello che i marroncini che piacciono tanto a me e c'è anche questo colore che è molto molto particolare è un tipo borgogna bellissimo super scrivente come potete vedere e anche questo vedete che bello questo qua praticamente è un bianco con dei riflessi verdi all'interno è un duo cromo troppo troppo figo mi sboccio da qualche parte perché se no questi sono gli ombretti come potete vedere sono super scriventi bellissimi rimetto l'applicatore nella palettina e questa è la seconda palettina che mi ha preso poi vi faccio vedere un attimo solo ho dimenticato di mettere la plastichina in questa qua di Catrice ok poi vi faccio vedere il pennello che mi ha preso vedete quanto è carino è tipo uno simple brush di essence però colorato e questo qui viene chiamato powder brush è tipo a punta sotto vedete come è fatto ed è celeste con la punta con la punta rosa molto molto carino morbidissimo ed è in setole sintetiche troppo bellino poi della Catrice vi faccio vedere cosa mi ha preso in edizione limitata questa edizione ragazze purtroppo non è uscita in Italia e Mara tramite dei contatti è riuscita ha fatto vari ordini e mi ha preso questa collezione che è sempre una collezione di Catrice ed è la Rocking Royals questa è la collezione che sia il blush che un rossetto me lo vedete nel tutorial di Natale come potete vedere ho sostituito il rossetto con questo qui rosso perché ero curiosissima di provarla di provarlo e mi piace anche l'effetto con il rosso questo questo trucco qui comunque il blush è questo porta un color borgogna e un viola molto scuro che uniti assieme sono davvero bellissimi vedete è un rosa antico scurissimo vedete molto molto bello devo dire la verità ma il pezzo forte secondo me di questa collezione sono i rossetti perché sono tutti e due matt e tutti e due super duraturi davvero sicuramente purtroppo questa collezione non riuscite a trovarla neanche se volete fare un ordine in non lo so in qualche sito perché è uscita mesi e mesi fa se siete fortunate magari in qualche sito forse la trovate perché Mara l'ha ordinata tramite una ragazza che vive in Germania e come sapete in Germania tutte le collezioni escono prima e alcune collezioni che escono in Germania e in Italia non arriveranno mai ed è allora vi faccio vedere il trossetto e a parte il packaging che praticamente porta questa corona bellissimo questo qui è il C01 Pink Punk ed è un viola glicine molto molto bello come potete vedere ed è un matto cioè fantastico questo è il colore come potete vedere è un bellissimo rossetto matto poi ho avuto modo di provare quest'altro colore qui ieri e dura tantissimo cioè ho mangiato anche mi è rimasto insomma mi sono rimaste le labbra colorate devo dire buonissimi e questo qua è il C02 Off Royal Blood questo questo è il colore come potete vedere è un tono di differenza cioè uno è un po' più rosa e l'altro va un pochettino più al borgogna violace insomma uno un po' più lilla l'altro un pochettino borgogna violace sono tutti e due matti bellissimi e tutti e due si coordinano benissimo con il il blush davvero stupenda questa collezione è un peccato che da noi in Italia non arrivano queste cose cioè va molto molto bella poi sempre per quanto riguarda il blush mi ha preso questo qui dice NEM che è un bellissimo rosa shocking dalla webcam sembra un rosa più tenue ma in realtà è proprio un rosa shocking e si chiama Pink Dahlia ed è il 14 penso che potete vederlo ve lo faccio vedere sbocciato e sono super scriventi questi di Cerem ed è come potete vedere molto molto forte bellissimo questo lo sfumato bello davvero bello ed è il classico blush di H&M la linea blusher quello lì classico che fa in vari colori questo qui è il 14 Pink Dahlia ed è 7.2 grammi di prodotto poi vi faccio vedere sempre per quanto riguarda il blush questo qui di quella marca spagnola Easy Paris che è molto molto carino perché porta la stampa con la rosellina dentro e poi porta lo specchietto con il il coso l'applicatore molto molto carino super scrivente anche questo devo dire la verità perché già l'ho sbocciato e vi faccio vedere questo è il il colore è molto molto simile a quello di H&M solo che quello di H&M è più un fucsia shocking questo qua è molto più tenue una volta sfumato anzi è un po' più glitteroso un po' più shimmer vi faccio vedere sfumato com'è eccolo qui poi vi faccio vedere della linea classica di Catrice mi ha mandato il correttore quello lì in crema il Catrice camouflage il mio è nella tonalità 020 light beige e lo sto provando e devo dire che è buonissimo infatti lo conserverò tipo una reliquia perché da me Catrice non c'è ed è bellissimo ed è quello che ho addosso è davvero fantastico ne basta pochissimo per un effetto straordinario e la matita per sopracciglia per sopracciglia ne avevo sentito parlare bene e me l'ha presa Mara molto molto carina ed è questa qui mi piace perché all'interno contiene una un'ottima quantità di cera quindi pettina bene le sopracciglia le tiene ben ferme e dura tantissimo la mia è nella tonalità 030 brown hide piece ed è la più scura questo tipo di matita qua fa tre colorazioni questa qui è la più scura il colore quello insomma che mi vedete poi mi ha preso il dupe del rossetto ruby v di mac che ho visto in un video di make up in 87 dove faceva vedere a confronto il ruby v di mac con questo qui di debbie che è il 68 il moule rouge ed è un mat a perlo appunto da me non l'ho trovato nelle acque sapone e Mara è stata così gentile da prenderlo ve lo faccio vedere questo è il rossetto che è bellissimo ragazze già l'ho provato non ho resistito e poi c'è anche la matita perché questi qua danno coordinata anche la matita perché pur io ne ho un altro però non è matto ma è più sheer come finish ed è un glish è tipo questo colore qui però è molto più trasparente come finish e mi hanno dato in coordinato la matita questa qui è la matita in coordinato però come potete vedere non ci azzecca un bel niente utilizzo quella lì di essence ed è la Debbie la numero 2 una nuova new formula l'hanno formulata in un altro modo mi trovo bene devo dire con le matite labbra della della Debbie ne ho un'altra e sono abbastanza valide anche per utilizzarle su tutte le labbra e metterci sopra un gloss sono molto molto buone poi per quanto riguarda i gloss vi faccio vedere questo qui della Paris che ne ha mandato un altro una tonalità più nude mi si fa e sono davvero molto molto buoni questi qui a parte il colore che è fantastico perché io per quanto riguarda rossetti scuri gloss scuri impazzisco vedete questo quanto è bello è un borgogna vinaccio scurissimo con dei micro glitter rossi è davvero molto molto bello e questo qui è il Paris Memory questa marca qui molto molto bello come vedete stupendo questo vedete quanto è bello questo rosso che non è quello che porto attenzione quello che porto ve lo faccio vedere subito è questo questo gloss qui che la marca è la Beautiful Face Effect 3D gloss con 3 volume e brillance non so il francese e praticamente ha un'idratazione 8 ore e praticamente questo qui dovrebbe essere un gloss però mi ha detto Mara che ha un effetto tinta infatti è così ed è quello che ho sulle labbra l'unica cosa che sto notando è che si sta facendo tipo la se ne è andato qui come potete vedere risulta questa cosa un pochettino devo ritoccarlo va ritoccato questo però il colore come potete vedere i bordi è rimasto ben pieno solo all'interno insomma va ritoccato non lo sboccio ragazze perché l'ho sbocciato quando mi è arrivato e mi è rimasto fino alla sera lo sboccio di questo prodotto vi apro insomma la confezione e ve lo faccio vedere così comunque questo rosso fragola che mi vedete molto molto bello però una volta applicato è molto molto secco vi secca le labbra in maniera impressionante necessita per forza di un gloss ho utilizzato il gloss trasparente degli acqua rouge di Make Up For Ever poi sempre per quanto riguarda tinte labbra mi ha mandato questa della Sibbella sempre questo qui praticamente è un lip gloss long lasting 24 ore praticamente è una tinta perché l'ho provato ed è una coprenza di un rossetto ed il colore è bellissimo bellissimo poi i colori nude li amo ed è un rosa che pescato bellissimo molto molto bello una volta asciutto diventa matto e dura tantissimo fa proprio l'effetto tinta e come potete vedere il colore è bellissimo molto molto bello e molto coprente non l'ho ancora provato però dallo swatch e dal prodotto in sé si vede mi piace tantissimo anche il packaging mi ricorda le tinte di Rimmel se non erro che le fa con questo packaging sfumato molto molto carino poi mi ha mandato l'ombrettino di Astra che ho utilizzato per il secondo tutorial di Natale che vi ho pubblicato ed è bellissimo ed è quello che ho applicato sopra l'argento che ho utilizzato nella palettina di Too Faced per creare questo effetto bagnato glitteroso molto molto carino ed è il 26 sul color di Astra penso della nuova collezione non saprei dirvi il tappino è quello lì nero e praticamente sono un insieme di micro glitter tutti colorati con base argento davvero bellissimo poi un altro ombretto fantastico e a dir poco è questo qui della Yes Love infatti secondo me il prossimo tutorial per le feste lo realizzerò con questo ombretto che è un marrone con riflessi oro è un oro verde non lo so è particolarissimo vi faccio uno sboccio aspettate mi sa che il prossimo tutorial utilizzerò questo perché è bellissimo praticamente è un un marrone verde oliva con riflessi oro fantastico e come potete vedere è super scrivente poi si sfuma facilmente vedete bellissimo stupendo mi ha lasciato davvero senza parole questo ombrettino qua vi dico il numero se lo riuscite a trovare è lo 03 lo 03 eccolo qui poi mi ha mandato due matite una della Yesensi la marca quella lì a spagnole questa qui una è sul verde smerando ed è bellissima questa qui praticamente tiene dei micro glitter verde acqua all'interno e poi mi ha mandato queste due matite qua una viola e questo due una nera della marca Natalia e l'altra è viola vi faccio vedere sono tutte e due matte queste qui che vi sto sbocciando perché non hanno glitterini mentre quella della Yesensi ha dei riflessi verde acqua eccole qui questa è il 2 di matite e sinceramente non vi saprei dire il numero di questa perché non lo porta e questa qui della Yesensi è non vi saprei dire neanche questa sinceramente cosmetics emerald green la 1 praticamente si chiama emerald green ecco qua si legge a malapena perché il packaging è specchiato poi sempre della Yeslove mi ha mandato questo prodotto a parte il packaging vedete quanto è bellino ovvero due eyeliner in uno cioè l'eyeliner in penna che è questo qui e vi voglio sbocciare che è questo viola stupendo praticamente questo qua è un viola con riflessi lilla bellissimo o bello e devo dire che scrive infatti lo voglio provare anche come matita all'interno della rima non lo so voglio provarlo poi è molto carino praticamente funziona che si avvita in questo modo si chiude e poi c'è quello liquido che ha un colore è un lilla metallizzato praticamente con riflessi rosa all'interno secondo me è un po' difficile l'applicazione perché il pennellino non è dei migliori cioè non fa una linea dritta infatti voglio chiedere a Mara perché ce l'ha pure lei come lo utilizza perché la linea non esce bella dritta cioè solo se ci metti un quintale di prodotto vedete è un bellissimo lilla metallizzato con riflessi rosa molto molto bello e come ultimo prodotto mi ha mandato questo trio di ombretti sempre della yes love ed è lo 02 e all'interno contiene tre ombretti questi qua sono da prelevare singolarmente o da miscelare e sono un rosso fragola marrone scuro che vira quasi al nero è un borgogna bellissimo e super scrivente come potete vedere e ragazze questo è quanto io ringrazio Mara vi ho voluto fare il video perché comunque sono tanti prodotti e per i prossimi regali di Natale per far vedere tutto quello che mi ha mandato Mara il video secondo me durava tantissimo ve l'avevo promesso perché molti di voi su facebook quando hanno visto la foto mi hanno visto mi piace e volevano insomma saperne di più e quindi vi ho mostrato insomma i vari prodotti i vari swats io vado a lavarmi perché sono decente vi mando un bacione ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze